Il Fior di Primi Surgital è la nostra linea di piatti pronti pensata per il bar, siamo qui a Baritalia per proporre un'idea di pausa pranzo che è diversa rispetto a quello a cui siamo abituati. L'abbiamo fatto attraverso il food pairing e quindi l'abbinamento tra un piatto pronto e un cocktail fatto da professionisti. Questo perché? Perché la pausa pranzo vogliamo che sia vista come qualcosa di un po' più completo, che offre un'esperienza un po' più a tutto tondo rispetto a quella a cui siamo abituati. L'abbiamo fatto anche attraverso idee nuove di servizio, quindi monoporzioni o abbinamenti regionali oppure idee nuove che ci staccano un po' dall'idea della ristorazione veloce che abbiamo tutti quanti nella testa.